Oh, 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 Don Basilio, io credi a tempo, oh, io voglio che forza per amore, dentro di mani, scossare la mia ospia, avete un riso? E poi un libro è benissimo, è al punto di cui veniva la disarmi, ma... E poi un libro è benissimo, è al punto di cui veniva la disarmi, ma... E poi un po' e lo faccia, oh, no, no! E un'anima perduta, io, io si sperrino, fra quattro giorni, credete a me, Basilio, me lo giura, non è un maestro, giovane, da questa è l'ora! E poi, credete, c'è un impegno sistema, e non sbaglia! E' un'anima perduta! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.